Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Tanti, tantissimi di voi quando vi ho recensito le Power Station mi hanno detto sotto nei commenti Riccardo, ma esiste qualcosa di più economico, anche di meno potente? Perché ho bisogno di alimentare qualcosa con la corrente 220V ma che non sia eccessivo? Potrebbe trattarsi di un piccolo saldatore stagno? Potrebbe trattarsi di un'esigenza di ricarica ad esempio di qualche batteria? Beh, sì, esiste esiste questa piccola Power Station o se vogliamo chiamarlo grande power bank? Praticamente è un power bank con la possibilità di avere anche 220V con onda sinusoidale pure a 50Hz come frequenza che ci permette appunto di alimentare tutti quegli strumenti che abbiano un'elettronica delicata e ci permette di utilizzare le prese usb come un normale power bank, quindi va in una mano o anche un piccolo zaino facilissimo da trasportare che costa 120 euro circa su sito Jack Bang vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione e spero pure di associarlo ad un codice di sconto per farvelo pagare ancora di meno considerate che è un power bank normale da 40.000 mAh circa costa su per giù attorno a 100 euro 80 euro con poco in più potreste avere la possibilità di trasportare qualcosa che vi dia la 220 volt ovunque non si tratta di quelle power station grandi che pesano anche una decina di chili non sono eccessivi ma in bici oppure sullo zaino 10 kg si sentono questa invece ha pure la maniglietta con la molla quindi ammortizzata e secondo me è un prodotto molto pratico ora ve lo faccio vedere da vicino ve lo faccio conoscere poi valutate voi se secondo voi potrebbe essere utile per le vostre esigenze e allora eventualmente procedete con l'acquisto altrimenti ci facciamo compagnia qualche minuto iniziamo e allora innanzitutto diamo un'occhiata alla confezione dopo di che daremo un'occhiata anche al sito internet come vedete abbiamo alcune indicazioni ci fanno capire il funzionamento la destinazione di questo tipo di prodotto e poi le informazioni tecniche quindi funziona con batterie al litio può emettere corrente alternata oppure corrette corrente continua come vi dicevo a tre porte usb e onda sinusoidale pura si può ricaricare sia con il pannello solare con la corrente di casa oppure in automobile e può alimentare dei dispositivi che non siano sicuramente grandi dispositivi ma ad esempio ventilatore qualche strumento può ricaricare telefonini droni batterie telecamere batterie dell'elettro density può alimentare anche dei computer insomma tutti quei dispositivi che non richiedono chissà quanta energia ed è quindi indicata in tutte quelle situazioni nelle quali abbiamo bisogno fuori casa o anche in casa nel caso in cui dovesse per esempio mancare la corrente elettrica all'interno di questa confezione troviamo anche alcuni accessori questa è una piccola lampada led usb poi troviamo questo adattatore per accendisigari ovviamente con il jack e questo serve per ricaricarla in automobile poi se vogliamo possiamo ricaricarlo ovviamente anche con il suo alimentatore che va inserito nella parte posteriore e si tratta di un alimentatore da 15 volt 2 ampere e mezzo ora guardiamo il prodotto allora a questa maniglia sulla parte alta molleggiata solo le molle sono leggermente rumorose poi abbiamo il tastino per accendere la corrente continua questo invece il tastino per la corrente alternata l'uscita 12 volt massimo 10 ampere e poi tre uscite usb poi abbiamo questa che dell'uscita per la 230 volt e quindi accendiamola si accenderà il display che non è effettivamente ricchissimo di informazioni infatti ci da solamente l'informazione sul livello di carica della batteria il tipo di funzione che abbiamo scelto ma se premiamo anche questo tastino lo portiamo su on allora si accende anche a c quindi corrente alternata da questa parte abbiamo le prese d'aria sia a destra che a sinistra e in questo lato abbiamo anche l'ingresso per la ricarica si può ricaricare anche con dei pannelli solari ma ora guarderemo tutti i vari dettagli le caratteristiche tecniche anche i tempi di ricarica quindi batteria 151 watt ora a 200 watt infatti il modello è e 200 con onda sinusoidale pura in uscita abbiamo 220 volt 50 hertz la ricarica ne abbiamo già parlato da 15 fino a 24 volte con i pannelli solari oppure con 15 volt due ampere e mezzo come abbiamo visto poco fa con il suo alimentatore in uscita abbiamo invece 5 volt 2,4 ampere per quanto riguarda l'usb quindi corrente continua con la quick change 3.0 oppure le uscite come ho fatto vedere poco fa in corrente continua dove 12 volt massimo 10 ampere adesso facciamo un paio di prove perché effettivamente con questa non è che ci sia tantissimo da fare vi faccio vedere il suo funzionamento per esempio inserendo questa lampada a led come vedete si accende comoda nel caso in cui dobbiamo leggere qualcosa abbiamo bisogno di un po' di luminosità tra l'altro si illumina anche dalla parte posteriore quindi abbiamo sia la luce più forte che la luce più bassa ma il funzionamento tramite le prese usb insomma semplicissime come se fosse un power bank quindi non c'è tantissimo da fare facciamo due prove con la corrente alternata come vedete qua abbiamo neutral qua abbiamo la linea quindi la fase è questa invece la terra ovviamente non è mia intenzione stupirvi perché si tratta solo di 200 watt però voglio farvi vedere come funziona quindi colleghiamo questa piccola una levigatrice si tratta semplicemente di una levigatrice a delta da 160 watt e proviamo a levigare questo pezzettino di legno ovviamente per pochissimo altrimenti tra l'altro vi annoiereste ok ho staccato la spina per farvi vedere che si spegneva è effettivamente collegata al power station o power bank come vogliamo chiamarlo quindi ricollegandolo ovviamente si riaccenderà ok quindi come avete visto funziona ed è utile per questo tipo di lavori nel caso in cui dovete fare un lavoretto lontano dal vostro garage prendete questa che utilizzate normalmente come un power bank e avete la possibilità di fare questo tipo di lavori oppure collegarci un ventilatore tutto quello che può essere alimentato che rientri nei parametri e che quindi altrimenti non potreste utilizzare perché è vero una normale power bank che vi consente di ricaricare dispositivi in corrente continua ma nel caso in cui ci sia la presa e allora in quel caso cambia tutto perché potete utilizzare tutto ciò che ha una spina e che sul power bank normale non può essere utilizzato adesso guardiamo sul sito internet le caratteristiche tecniche e allora come vi dicevo sul sito jack bank costa 118 euro per un dispositivo di questo tipo secondo me ci rientra perfettamente guardiamo però alcune caratteristiche abbiamo 40.800 milliampere ora e abbiamo quindi la possibilità di ricaricare ad esempio tre volte un computer quindici volte un telefono cinque volte un tablet sei volte un drone come ad esempio un dj ai mini e possiamo alimentare per ben cinque ore un piccolo frigo per esempio quelli da automobile ma d'altra parte un dispositivo come questo così piccolo non andrebbe utilizzato come backup nel caso di blackout semplicemente per dei viaggetti nel caso in cui abbiamo un piccolo frigo ad esempio appunto lo portiamo in spiaggia e lo possiamo alimentare per mantenere fresche le nostre bibite da questa parte abbiamo altre informazioni per quanto riguarda per esempio la ricarica col pannello solare che può essere eseguita appunto tramite dei pannelli con massimo 24 volte da 15 a 24 volte e poi un elenco di ciò che troviamo all'interno della confezione ma che vi ho già fatto vedere qua riporta alcuni esempi di utilizzo come vedete un piccolo frigo è un elenco di dispositivi che possiamo ricaricare oppure alimentare scorrendo verso il basso troviamo altre immagini che rappresentano i vari tipi di utilizzo l'utilizzo con i pannelli solari per poterlo ricaricare e poi se volessimo utilizzare perché effettivamente manca una usb c power delivery possiamo collegare un normale alimentatore da questa parte che abbia l'uscita power delivery e quindi ricaricare molto più velocemente anche se ci sono le usb quick charge però se abbiamo bisogno di quel tipo di ricarica abbiamo la possibilità di fare in questo modo e poi più giù riportano in modo sintetico tutte le caratteristiche appunto che vi ho già letto e oltre a essere utile per esempio in campeggio si può utilizzare anche in spiaggia associandolo ad un pannellino solare per il quale vi lascerò pure dei link potrete utilizzarlo per esempio vicino all'ombrello nel modo che si possa ricaricare contemporaneamente potete utilizzare le diverse uscite per i vostri dispositivi o anche questa presa come ho detto poco fa per un piccolo frigo portatile sinceramente con un power bank tutte queste cose non si possono fare l'unica pecca il display che non è ricchissimo ma per il tipo di funzione che svolge anche queste informazioni quindi la semplice percentuale e il tipo di funzionamento che abbiamo attivato sono sufficienti per il resto ragazzi la cifra è proporzionata perfettamente in linea con i dispositivi che abbiano solo la corrente continua questo in più alla corrente alternata quindi una chicca in più se vi piace se ritenete che possa esservi utile andate a dare giù un'occhiata giù nel primo commento nella descrizione ed eventualmente acquistatelo sperando di associare sempre il link al codice di sconto se il video vi è piaciuto cliccate qua giù su un mi piace cliccate anche sulla campanella per attivare notifiche dopo esservi iscritti ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto